Buonasera a tutti. Questo è l'anno dantesco. Parlerò della vicinanza di Dante a noi e della sua attualità. Mi è capitato più volte di ricordare quanto il nostro grande poeta Andrea Zanzotto scriveva, noi non sappiamo se esiste un paradiso, ma sappiamo che esiste il paradiso scritto da Dante e quello c'è di sicuro. Per tutti basta che si abbia l'amorosa e paziente volontà di entrarci. E noi sette secoli dopo ci possiamo ancora permettere questo gratuito ingresso sontuoso, il privilegio di un viaggio dentro un testo tanto venerabile, ma al tempo stesso, in fondo così domestico nonostante la lontananza dei secoli. Abbiamo qualche anno fa festeggiato il compleanno di Dante, i 750 anni dalla nascita e stiamo festeggiando ora, e si continuerà ancora per tutto il 2021, festeggiando i 700 anni dalla morte. A tanta distanza leggere, amare e celebrare Dante significa tante cose. Anzitutto significa collaborare, a restaurare una rete di connessioni ideali e culturali che hanno attraversato i secoli senza mai sfaldarsi. Perché? Perché il testo di Dante, padre della lingua italiana, ha rappresentato e rappresenta un'appartenenza, rappresenta un'adesione continuata ad un patrimonio di immagini e di personaggi e di storie condivise. È il testo che ha attraversato i tempi e che ha aiutato a una convivenza con noi stessi e con la società cui apparteniamo. È perciò doveroso leggere oggi Dante per questi e per tanti altri motivi che cercherò di esporre. Dobbiamo leggerlo non solo perché costituisce un unicum nelle lettere d'Europa, posto che con lui la nostra, rispetto alle altre letterature, nasce subito gigante, già tutta armata, diceva Vittorio Alfieri, come Atena è nata dalla testa di Giove. Nessuna letteratura del mondo conosce una nascita così alta, trionfale, grandiosa. Infine dobbiamo leggerlo per una vicinanza forte che a lui ancora ci lega. Noi sentiamo Dante particolarmente vicino perché ci fa riflettere sull'Europa oggi e sui temi attualissimi dell'appartenenza e alla grande patria di un mondo globalizzato e alle radici di una patria natia. Ricordiamo insieme quel passo bellissimo del De Vulgari Eloquenzia che dice io che ho per patria il mondo come i pesci hanno il mare, benché abbia bevuto nell'arno prima di mettere i denti e ami Firenze a tal punto da patire ingiustamente l'esilio proprio per averla amata. Ecco ci fa riflettere Dante sull'Europa, dicevo prima, per quel che costituisce il suo fondamento culturale e il suo collante. Dante, come Shakespeare o Cervantes, va annoverato tra gli scrittori che appartengono più all'Europa che alle singole nazioni. Fa parte Dante di quel gruppo eccesso di artefici che hanno creato personaggi che ed episodi senza morte. Lo sono Amleto, poniamo, o Don Quixote, lo sono Paolo e Francesca, Farinata e Conte Ugolino, Ulisse, Ulisse che perisce in mare per inseguire virtù e conoscenza e che diventa figura non soltanto valida per il Medioevo, ma travalica i tempi. Il discorso di Ulisse, convesso come uno specchio storio, può essere orientato sia sulla guerra tra Greci e Persiani, sia sulla scoperta dell'America, sia sugli audaci esperimenti di Paracelso, ha scritto il poeta russo Mandelstam nel suo celebre discorso su Dante. Dicevo che travalica i tempi questo personaggio, Ulisse, e vale ancora per oggi per chi fa progredire il mondo con la sua inesauribile curiositas, proprio dell'intellettuale, dello scrittore che si impegna proprio dello scienziato, assetato di conoscenza. Dante, più che narrare le vicende, ha creato o forse direi meglio recitato sulla scena del mondo ultraterreno personaggi che sono diventati immagini storico-culturali perenni, personaggi universali, senza morte, personaggi emblematici che oltre il resto ci insegnano anche una cosa importante, ci insegnano che cosa è la letteratura, che non è soltanto narrazione di una storia, di storie, ma simbolo di un comportamento possibile. È stato di fatti giustamente detto che per esempio la vicenda di Ugolino non colpisce tanto come rievocazione di un trucefatto di lotta politica, bensì come espressione della ferinità più bassa a cui può arrivare un uomo privato di ogni dignità. Forse che a lui non si riallaccia a questo, voglio dire, istinto cannibalico del cibarsi, perfame di carne viva, non si riallaccia primo levi in se questo è un uomo. Il conte Ugolino ci fa appunto meditare sul dove finisce la humanitas e dove comincia la ferinitas, per cui quell'episodio ha continuato e continua tuttora a imporsi tragicamente in tutta la sua attualità nel nostro odierno mondo sconvolto spesso e spesso crudele. Altro punto che consuona con l'animo di noi vissuti sette secoli dopo di lui. Amiamo Dante e lo leggiamo per quel suo continuo, fortissimo impegno sul presente suo e la passione civile che gli ebbe. Penso che dovremmo leggere e rileggere la commedia anche come un'alternativa radicale al suo, al nostro anche, al suo presente guidato dalla sete di denaro, guidato dalla moneta. Dante ci ricorda che per il denaro monaci, pontefici, re hanno ingaggiato guerre feroci, hanno peccato e di qui il castigo, di qui l'invettiva di Dante, lo sdegno, ma intanto l'attesa di un mondo migliore. Cito ancora Mandelstam, non è possibile leggere i canti di Dante senza rivolgerli all'oggi, sono fatti apposta, sono proiettili scagliati per captare il futuro ed esigono un commento futurum, la sua attualità è inesauribile, incalcolabile, inestinguibile. Dante ha poi una singolare prerogativa. L'essere stato antico e moderno lo è per i tempi nostri, lo era già per i suoi. Dante si immerge totalmente nella contemporaneità sua, ma guarda indietro anche, guarda al lontano mondo antico, riconoscendovi alcuni supremi valori civili e modelli di giustizia. Nel limbo, per esempio, ci mette addirittura un grande del mondo islamico, l'inatteso Saladino e Ceccatone, che si era immolato per la libertà. Non racconta Dante la storia del suo tempo soltanto, ma scrive come se tutto il passato fosse a lui contemporaneo, come se la storia non fosse evoluzione, diversità, ma una serie di rappresentazioni omologhe ad una stessa verità, valida per il mondo pagano come per il mondo cristiano. Antichi e moderni, pagani e cristiani, cavalieri, papi, imperatori, personaggi mitologici e amici suoi che ha frequentato in vita, religiosi, nobili, mercanti, tutti, tutti sono compresenti sulla scena e da Dante trascinati insieme in un giudizio universale, innalzati o condannati da Cleopatra a Giustiniano, da Achille a Tristano, da Elena a Francesca da Rimini, da Boezio a Guido da Montefeltro. Ecco, senza distinzione di epoche e di luoghi, Dante viaggia nella storia per incontrare ora poeti e eroi antichi, greci o latini, ora personaggi del suo tempo, familiari, un imperatore, un condottiero, un musico, un poeta. Altro motivo imprescindibile per leggere Dante. Dante va letto perché nella commedia la cultura occidentale fa tutta insieme la sua grande prima prova unitaria. Al comune Dante già sostituisce l'ampia comunità sorta in Europa dalle rovine dell'impero romano e la riconosce nel sacro romano impero e nella chiesa, le due istituzioni di governo in cui, e questo lo aveva sostenuto nel De Monarchia, in cui può risiedere ancora la speranza di un mondo diverso e più giusto. Aggiungo altri irrinunciabili motivi per leggerlo oggi, Dante. Uno è di fondo perché egli, insieme a Petrarca, ha plasmato il carattere della lingua italiana. Di questi nostri due grandi, uno Dante, ha percorso per intero le tastiere espressive della nostra lingua. L'altro, Petrarca, all'opposto, si è raggelato, diciamo così, in sublimi astrattezze formali. Dante ha dato, sin dalle origini alla nostra lingua, ha dato tutte le bassezze e tutte le altezze. Petrarca ha dato la bellezza generale, platonica, fissata, anzi potrei dire bloccata, per sempre in una rarefatta perfezione formale. E ci ha dato testi che sembrano allontanarsi dalle contingenze della realtà. Laddove Dante, invece, laddove i testi di Dante, all'opposto, sono così spesso visceralmente intrisi di contemporaneità e di realtà. Ecco, sono loro due, sono loro due ad aver condizionato gli svolgimenti e le scelte future delle lettere. Ci hanno dato i due toni della poesia. Petrarca, dicevo, l'equilibrio formale, la selezione del lessico. Pensate che i lemmi raccolti nelle concordanze, i lemmi del canzoniere, sono appena 3275. In Petrarca sono poche le coniazioni personali, sono pochi i neologismi. Dante, invece, è tutto uno sperimentare, è tutto un ardimento. Penso soltanto alla libertà di invenzione nell'uso dei verbi, nell'uso di quei verbi carichi di tensione e di energia. Per esempio, quando esprime l'azione, come posso dire, attraverso il suo contrario corretto dal prefisso dis, 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 dislagare, disgroppare, dismalare, disnodare, disgravare, dislegare, disnebbiare, disviluppare, eccetera, eccetera. Insomma, questo foggiare denominale, i verbi che derivano da nomi, alleluare, indiarsi, ingigliarsi, inventarsi, eccetera, eccetera. Quei si chiamano parasintetici, parasintetici costruiti con derivazioni di prefissi, appulcrarsi, incelarsi, addirittura formati sui possessivi, immiarsi, inluiarsi, inleiarsi, intuarsi, oppure su avverbi, indovarsi, insemprarsi, insusarsi, oppure addirittura coi numerali, intrearsi, incinquarsi, eccetera, eccetera. Ecco, vedete che innovazione continua, ma che è poi la forza che c'è nelle sue rime, nei suoi ritmi e nelle sue rime. Petrarca è il contrario, poeta, scrittore così chiuso e segreto, esatto e dall'armonia costante, come se volesse veramente bloccare, bloccare per sempre, congelare l'immagine della bellezza di una lingua. Dante invece, al contrario, proteso verso formidabili direzioni espressionistiche, plurilingui. Dante che realizza con estrema libertà una lingua letteraria sopradialettale, multiforme, capace, dicevo prima, dell'alto e del basso, ma anche capace, mentre si apre verso gli elementi extra toscani, capace di usare parole della sua patria di Firenze e delle altre città toscane anche, e meschiando tutte queste voci con le voci della classicità o anche della vicina tradizione siciliana. Con lui, insomma, il patrimonio linguistico dell'italiano segna un enorme incremento, perché svaria dal livello popolare al livello regionale, svaria dal livello gergale all'aulico, all'elevato, svaria dall'arcaico al contemporaneo, al coevo. Nella commedia incontriamo di tutto, incontriamo voci settentrionali, co invece di capo, per esempio, forme umbre, vonno, per esempio, per vogliono, sicilianismi, basta andare a vedere le rime del tipo suso, che rima con sdegnoso, desideroso, forme fiorentine arcaiche, antiche, oppure popolari, forme toscane accanto a latinismi. Usa immagine, ma anche imago, usa re, ma anche rege, usa tanto serpe come angue o come colubro, usa le forme toscane, latine o provenzali per dire la stessa cosa, usa tanto specchio come speglio, come speculo, come miraglio. I latinismi. I latinismi, come avete notato, sono sempre molto arditi. Cive, invece di cittadino, dive, invece di ricco, igne, invece di fuoco, eccetera, eccetera. E sono presi dalle sacre scritture, sono presi non solo dai classici latini, ma anche dalla filosofia atomistica, dalla scienza medievale. E Dante lo fa non certo per esibire la sua dottrina, ma per una necessità espressiva, per una necessità stilistica, per elevare il tono. E difatti non è un caso che i latinismi più fitti noi li incontriamo nel paradiso. Servono a Dante a rendere maggiormente sublime ora l'elogio che fa di San Tommaso, ora l'elogio che fa di San Francesco, ora la descrizione che San Bernardo fa della Rosa dei Beati nel canto 32. Si pensi al canto VI del Paradiso, il canto di Giustiniano, alle tante voci prese a prestito dal latino in quell'occasione, che era quella di tessere l'elogio di un grande imperatore romano. Ecco, non serpente, ma colubro, non rosso, ma rubro, dove Ettore si cuba, cioè dove Ettore dorme il sonno eterno, cioè dove Ettore giace si cuba. Oppure il verbo labere che era usato da Virgilio, da latino, diciamo, Orazio, Ovidio, che ha però un'altezza da pedigrì di classe A, no? E cala questo latinismo però con tutta naturalezza in un contesto molto semplice e trasparente. Ecco il verso, l'alpestre rocce po' di che tu labi, cioè le rocce delle Alpi dalle quali tu, o fiume Po, labi, scorri veloce. Si spiega, da quel poco che ho detto, la macroscopica presenza che Dante viene ad avere nella poesia del Novecento. L'espressionismo novecentesco di parte della poesia del Novecento si è a più riprese avvalso dell'ampio ventaglio stilistico offerto dalla commedia, che è stata una presenza e uno strumento imprescindibile per uscire di forza dalle dorature di una lirica linguisticamente ormai stanca. È d'obbligo citare almeno Montale. Montale è per lui, come per tanti altri, il modello principe a cui attingere resta l'inferno. La cantica più vicina al mondo della poesia, o meglio al mondo contemporaneo, per quella sensazione, pensiamo alle due grandi guerre, la prima e la seconda, per quella sensazione di catastrofe e di fine che trasmette. In particolare, di fatti sono significativi i dantismi della raccolta, di una raccolta, ma non soltanto di quella, di Montale, della bufera, della bufera che è scritta da Montale durante la guerra, durante la convulsione bellica. Con l'irrompere della guerra, irrompono anche nella sua raccolta, la bufera, immagini infernali, apocalittiche, da danza macabra, come quella già evocata in un'altra raccolta, nelle occasioni. Cito soltanto quel componimento, addio fischi nel buio, no? E poi lo schianto rude, i sistri, il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia, lo scalpicciare del fandango e sopra qualche gesto che annaspa. Ma Dante era già presente negli Ossi di Seppia, la prima raccolta di Montale, dove era presente? Era presente per esempio in quella inconfondibile sillabazione, quella personalissima musicalità montagliana così aspra, così poco cantabile, melodica, così poco melodica, che veniva fuori così articolata aridamente da Montale, in sillabe storte, in sillabe aspre, in sillabe scordate, antigraziose. Ma si lega soltanto, leggiamo soltanto, non leggiamo tutto, ma acceniamo soltanto, ricordiamo soltanto quella famosa poesia degli Ossi, più famosa, Meriggiare, no? Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, eccetera. E basti guardare, quando la rileggete, a quell'intreccio aspro e chioccio, avrebbe detto lui, di sterpi, schiocchi, serpi, veccia, screcchi, cocci, c'è anche una rima infernale, sterpi, serpi, è un rimando preciso. Ma che cosa? Inferno XIII, la selva dei suicidi. E quello che ha scritto un grande critico, Luigi Blasucci, la petrosità, diceva Blasucci, pietraglie, pietrame, pietra, scheggia, roccia, i verbi impietra, di rocciare e tutta quella aridità che c'è negli Ossi di seppia, greppi, brullo, arido, secco, eccetera. L'arsura, ecco, arsiccio, rovente, bruciato. Anche la sterposità, pruni, spini, sterpi, sterpeto. Certi verbi, cerpare, schiantare, evidenziano quanto montale sia una sorta di scolaro, di discepolo di Dante, del Dante petroso, delle rime, del Dante poi della commedia. Ma Dante nel Novecento non è semplicemente, non è stato semplicemente una fonte da cui estrarre dei vocaboli, delle rime. Non si tratta di un ipotesto, come si è così, un testo come fonte, ma un testo necessario sempre all'interpretazione dei testi contemporanei che andiamo analizzando ogni volta. Dante si evidenza nei poeti del Novecento con molteplici e infinite sfaccettature. Potremmo per esempio fermarci, ma non c'è tempo, sui materiali danteschi che sono ripresi come elementi ricostruttivi, come elementi portanti anche soltanto nelle rime, nelle rime di un grande poeta come Giorgio Caproni, quando scrive per esempio una bellissima raccolta dal titolo Il Seme del Piangere. Ma prima ancora c'era stata quella presenza di Dante nel primo Novecento in un uso diverso, in un uso ironico, come aveva fatto Gozzano, che col suo dantismo faceva una specie di citazione che era distolta, che era stravolta dal contesto in cui quel vocabolo dantesco era nato e diventava immediatamente una sorta di reminiscenza frusta e stanca da scolastica. Ecco, era insomma un Dante, era un sublime ridotto fatto scendere giù nel salotto borghese dai dialoghi del paradiso tra Dante e Beatrice, il gran lampadario vetusto che immilla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto. Decenni dopo, questo sarà anche ripetuto con una modalità nuova, per esempio da un altro grande poeta del Novecento Giovanni Giudici, quando i testi, certe sue raccolte dal titolo La vita in versi, o Beatrice, giudici ci farà rilevare come la citazione dantesca diventi uno stacco, diventi una differenza tra la vita spicciola di un uomo comune, che è una tematica che lui svolge, che gli è propria, questo stacco di questa vita spicciola, dicevo, di un uomo comune e l'altezza di una tradizione come la quella di Dante. Insomma, non finirei di fare esempi per mostrare come la foresta di Dante produca continuamente un continuo, per tutto il Novecento, un continuo mormorio sempre variato, un coro di citazioni. Questa presenza siamo poi tornati a toccarla con mano quanti anni fa, quando si sono festeggiati i 150 anni della nostra unità nazionale. E in quell'occasione è stato, a più riprese, ricordato che per noi italiani per prima è venuta la lingua, è venuta la lingua della letteratura, la cui validità, validità, la cui tenuta, hanno prefigurato fino dalle origini una unità nazionale immaginata e inseguita secolo dopo secolo come un desiderio continuo. Da noi toccò a un poeta, cinque secoli prima dell'unità reale, toccò di segnare la data d'inizio di quella unità. E ciò avvenne con il De Vulgari Eloquenza, dove Dante vede per primo l'Italia, immagina e vede l'Italia come lo spazio geografico su cui una lingua letteraria avrebbe dovuto prefigurare una unità, lo spazio su cui quella lingua si sarebbe diffusa. Lui nel De Vulgari Eloquenza già pensa a un volgare letterario del sì, come lo chiama, di ampio respiro, fondato sì su un gruppo di toscani, Cino, Cavalcanti, lui stesso Dante stesso, ma anche sul gruppo beridionale dei siciliani già fioriti al tempo di Federico II. E in questa federazione accoglie anche dei lirici non toscani, per esempio un grande bolognese, Lui Nizelli. Ecco questa parola letteraria, questa lingua del sì che già si stende su una unità geografica e culturale, prima che essa unità già politicamente esista. Soltanto sei secoli dopo si realizzerà quell'antico desiderio dantesco. Questo quindi, questo nostro percorso volitivo e non politico, che ha da Dante in poi, e questo l'ha detto un grande nostro poeta del Novecento, Mario Luzzi, che ha inseguito per secoli il sogno di un paese sempre da costruire, di un'Italia perennemente da fare, illimitatamente futura, dice Luzzi, inventata dalla appassionata genialità dei poeti e dei filosofi, prima che dagli statisti. e quindi questa Italia che è sempre stata vera e indubitabile in questa tensione verso un qualcosa da raggiungere. Nel corso del tempo di fatto abbiamo faticato parecchio, abbiamo faticato non poco a costruirci una nazione e una lingua comune, ma se una lunga divisione ha prodotto l'allentato, diciamolo pure, sentimento patriottico identitario che contraddistingue noi italiani. voglio dire, se non abbiamo mai avuto il senso reale e profondo di una comunità nazionale, cioè voglio dire la solidità di una appartenenza pari a quella che hanno altre nazioni, è però vero che nel nostro paese ci ha pensato per primo la lingua, la letteratura, la lingua della letteratura a indicare sin dalla nascita, sin dalle origini, una perseveranza, un desiderio, una volontà di unità che si è poi protesa nel tempo, attraverso il tempo e con molta forza tra le pieghe e gli svolgimenti delle scritture. Insomma, Carducci nel discorso presso la tomba di Petrarca, che tende nel 1874, recitava quando il principe di Metternich disse l'Italia essere una espressione geografica, non aveva capito la cosa, ella era un'espressione letteraria, una tradizione poetica. Erano gli anni in cui De Santis indicava proprio nella letteratura e nella lingua gli strumenti di fondazione della collettività nazionale. L'aveva già detto Foscolo nella lezione inaugurale alla Trattata di Eloquenza di Pavia nel 1809, aveva detto le stesse cose e su questo punto Dante ha avuto proprio come padre della lingua un ruolo determinante, fondamentale a chi nell'Ottocento, negli anni del Risorgimento, rileggeva i versi suoi, i versi di Dante. Sembrava di abitare la bella lingua unitaria come se fosse una patria, sentiva di fondare con la lingua di Dante l'unità d'Italia e un senso di abitarla, proprio così. Lo sentono ancora gli scrittori, oggi tanti scrittori, a 700 anni dalla morte del poeta. Ogni volta che riesco a comporre una frase ben concepita, ben calibrata e precisa in ogni sua parte, una frase salda e tranquilla nella bella lingua che abito e che è la mia patria. Mi sembra di rifare l'unità d'Italia, diceva in maniera mirabile un nostro grande narratore, Raffaele La Capria. E' un'unità che sotto forma di area di famiglia noi rifacciamo ogni giorno nel parlare quotidiano e anche questo è una peculiarità ben nostra, non capita nelle altre lingue. Voglio ricordare rapidamente gli spezzoni diversi danteschi che spesso si usano come echi di un riconoscimento, diciamo così, che affondano le radici nel Dante che abbiamo letto a scuola, che abbiamo imparato anche a memoria e versi che hanno a loro modo costituito anche una sorta di collante comunitario, una memoria storica che ha fatto da contrappeso anche all'abilità della nostra coesione. Ne pilucchiamo pure dal linguaggio quotidiano, dal linguaggio colloquiale e allora osserviamo immediatamente che il padre della nostra lingua ha fornito più di altri poeti, ha fornito materia, molta materia al parlare e allo scrivere quotidiano o mediamente colto, il natioloco, le dolenti note, il maggior fabbro, discendere per gli rami, perdere il ben dell'intelletto, senza infamia e senza lode, ma guarda e passa, mi fa tremare le vene in polsi, nel mezzo del cammino di, dalla cintola in su, il gran rifiuto, l'uscire a rivedere le stelle, il lasciato in speranza a voi che Galeotto fu e via seguitando, potremmo continuare. Non sto dunque parlando soltanto di Dante e la lingua italiana, dovrei mettere un accento su quella E e dire Dante è la lingua italiana. Dobbiamo a Dante il fatto che la nostra lingua sia rimasta per secoli strutturalmente così vicina alla lingua delle origini, cosa che negli altri paesi europei non è capitato, l'italiano di Dante non è distante da noi, è chiaro, è parlante alle orecchie di un uomo del 2000, di un italiano del 2000. Noi, leggendo Dante, stupiamo quando ci si imbatte in versi suoi così trasparenti, scritti in una lingua che sembra ancora fresca di giornata. Rispetto all'italiano antico, il moderno è cambiato in modo, certo apprezzabile per quanto riguarda l'ordine delle parole, ma nel complesso sono provarsi gli elementi di continuità, di persistenza. De Mauro diceva, scriveva anzi, quando Dante comincia a scrivere la commedia, il vocabolario fondamentale è già costituito al 60% e alla fine del 300 il vocabolario fondamentale italiano è configurato e completo al 90%. E ancora De Mauro ha poi precisato che dei 7000 vocaboli usati nella commedia, l'86% è ancora oggi usuale e non solo nell'uso dei colti. Oltre all'essico, straordinaria è la stabilità morfologica. E pensiamo soltanto all'articolo, le forme quattro-cinquecentesche erano el e al plurale e sono ignote all'italiano moderno, che appunto noi diciamo il e al plurale i, appunto come Dante, appunto come gli scrittori del 300. E se penso al verbo, alla morfologia del verbo, noi continuiamo a dire io faccio come Dante e non io fo come i fiorentini oggi, perché il fiorentino si è, come tutte le lingue, evoluto nel tempo. L'italiano invece è rimasto fermo a Dante, è rimasto fermo alla letteratura, tant'è che nel complesso, e salvo le parti teologiche, le parti astrologiche, le parti scientifiche. Nel complesso Dante è relativamente facile da leggere, easy to read, diceva Eliot, e aveva ragione. Non lo è al contrario per un inglese che non abbia studiato espressamente la fase antica della propria lingua. Non lo è il Beowulf, che è uno dei primi documenti dell'inglese letterario. Non lo è Chaucer, come non lo è per uno spagnolo, il SID, come non lo è per un francese la chanson de Roland o Chrétien de Troyes, perché vanno tradotti, perché oggi uno spagnolo, un inglese, un francese li possa capire. Dante invece che senso ha? Dante non è linguisticamente lontano, Dante non va tradotto, nessuno dovrebbe pensare di tradurlo. È una lingua la sua che ancora oggi noi riconosciamo vicina. È un testo che quasi sempre, quasi sempre, basta a se stesso. Lo giorno se ne andava e l'are Bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro. Io era tra color che sono sospesi e donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevano gli occhi suoi più che la stella e cominciò a mi a dir, soave e piana, con angelica voce, in sua favella. E basta leggerlo così, in modo non enfatico, seguendo il ritmo del senso e del verso. Noi eravamo lunghesso mare ancora, come gente che pensa al suo cammino, che va col cuore e col corpo di mora. Ed ecco qual, sorpreso dal mattino, per i grossi vapor, Marte rosseggia, giù nel ponente, sovra al suol marino, cotal mapparve si ancora lo veggia, un lume per lo mar venir, si ratto, che il muover suo nessun volar pareggia. Come le pecorelle escono del chiuso, a una, a due, a tre, e l'altre stanno, timidette, atterrando l'occhio e il muso, e ciò che fa la prima e l'altre fanno, addossandosi a lei, se la s'arresta, eccetera, eccetera. Ho aperto il purgatorio a caso, direi. Ecco, la continuità, la vicinanza, con un testo di sette secoli fa, è davvero impressionante.